bella picciotti sono Narciso benvenuti in questo nuovo video oggi siamo ancora che ne soglia padriamo di spam pvp siamo su 25 ribamper e ho preso un po' di roba adesso ci andiamo al chest tutta la sopra e perchè ci sta quello che spida in quel modo? perchè mi sa che ha tipo lo sprint buggato non vedo altra soluzione o citta o ha lo sprint buggato le cose sono due e sono anche abbastanza easy da capire non è easy da capire se appunto stesse cittando o sta cittando o roba del genere tu non venire qua sopra mate allora un'arma ci siamo vicini però no non è vero perchè mi frame droppa? che c'è in 3 secondi e mi è durato anche un bel posto prendro un po' e questo li mettiamo qua gli stick mi servono andiamoci a fare il root ok boom 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 c oggi perchè mi deve fare bestemmiare eh perchè? pc per quale motivo? io non ti ho fatto nulla ricordatelo è vero tra pochissimo ti andrò a cambiare ma giusto perchè ti voglio migliorare e io perchè mi sto met... what the fuck vabbè frame drop ancora spero di non averne più anche se tipo è impossibile come cosa però noi ci speriamo ok dammi questo dammi questo dammi questo spero che non venga nessuno perchè altrimenti bestemmio vabbè andiamo mi manca la rod mi manca la rod ho già messi bene siamo in 10 eravamo in 12 prima che hm dicevo 10 vabbè comunque la la gente tipo muore instant cittante giusto per dirvelo ok butta saliamo qui sopra vediamo il fisio che sembrava star cittando anche se l'ho spinto puggato vabbè comunque io perchè se no poi c'è qualcuno che viene acqua e me ne prendo qui ci sta qualcuno non mi pare di vedere nessuno andiamoci a pigliare questa cassa ok una volta era sempre di 2 ma del st1 magicamente complimenti spain ottimo le frecce ci sono molto utili comunque questo penso che sarà l'ultimo video che farò oggi perchè ne ho già fatti un po' e sono anche stanco adesso vado a mangiare ciò fa innanzitutto vediamo di completare sto video siamo 5 oh ma siamo scemi siamo scemi forti proprio che è quel pazzo che lascia queste cose qua appunto un pazzo di sicuro non io perchè io li miso allora a parte il tipo mal di schiena che mi sta per venire posso fare roba? no non posso fare nulla andiamo verso il centro a questo punto oppure proprio a pigliare niente già ci sono stati what? ok però tipo i pantaloni li tolgo poi per il resto posso anche lasciare tutto siamo in quattro ah si comunque raga ho riattivato la chat cioè non mi sta dando nemmeno più di tanto non mi sta dando problemi di lag quindi ho detto ma si dai la riattivo stica è nata allora qua ci sono delle fiamme fiamme vogliono dire combattimento combattimento vogliono dire player e infatti eccolo qua eh però non ho ben capito se tipo sta inseguendo un tizio che gli ha dato fuori si 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 quindi se io riesco a cleanare sti due sono messo a posto per una vita proprio lol gli ha lanciato grazie dov'è che l'ha lanciata la perla eccola ecco il tutto boom full air no spadindia 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 ah ciao vabbè eh sarà divertente ok li accogliamo raga perché tanto possiamo e ci andiamo come al solito di bow spam ok ok vediamo chi è più forte vediamo chi è più forte vediamo chi è più forte di sicuro io ok però devo cheppolar ok posso fare frecce penso di sì no penso di no dai ok faccio una gap comunque hai finito le frecce com'è sta storia ok ho vinto Jeff ho vinto un casino di SG raga 51esimo episodio quante kill ho fatto ho fatto soltanto 4 kill ma non importa gg penso che adesso è stacco perché non c'ho più minimamente voglia di reccare molto probabilmente andrò a renderizzare ma prima vado a mangiare ho fatto troppe rime in questo video io spero che questo video raga vi sia piaciuto nel caso fosse così mi invito a lasciare un like un commento a iscrivervi e fare tutto quello che volete seguitemi su tweet da merci del tutto ciao a tutti